Nonostante il rapido evolversi delle situazioni di crisi nel mondo e questo stato di incertezza che lo pervade, il peacekeeping rimane un punto fermo nell'impiego delle forze armate italiane al pari di forze armate di altre appartenenze nazionali. L'Italia persevera nel suo progetto di mantenimento di questo impegno su diversi fronti, tanto in Libano quanto in Iraq e quanto in Afghanistan. Il peacekeeping continua a rimanere nel rapporto con la diplomazia e non ultimo anche nel rapporto con il mondo accademico e con le espressioni proprie della cultura nelle sue varie forme. Lo strumento principale di comunicazione, di conciliazione e ad espressione di questo intento, di questo impegno di stabilità che il nostro paese e le nostre forze armate rinnovano nel mondo.